Oggi vi parlo di un libro molto particolare che mi è capitato di leggere nelle ultime settimane. L'autore è Richard Wrangham, è un primatologo, antropologo, notissimo, molto autorevole, importante, insegna a fare ricerca ad Harvard. Il titolo del libro dice già tutto, il paradosso della bontà. È un libro che ruota attorno a una grande domanda che è al contempo filosofica e scientifica. Ha attraversato la filosofia moderna ma oggi può anche essere illuminata da ricerche scientifiche, ovvero siamo buoni o cattivi per natura, noi esseri umani? Tutti ricordiamo Jean-Jacques Rousseau, l'idea appunto della bontà di natura come nostro retaggio che poi viene contaminato e corrotto dalla civiltà, o viceversa Thomas Hobbes che sosteneva al contrario che noi siamo cattivi per natura e poi dobbiamo essere corretti dal grande Liviatano, da un stato che ci tiene in ordine. Beh, Wrangham in qualche modo riprende questa dicotomia e la lega a dei nostri parenti più o meno stretti, in particolare il nostro cugino più stretto, lo scimpanzè, e la sua specie sorella, il bonobo. E come già qualcuno ha notato, in fondo in quella radice evolutiva c'è già questa contraddizione, perché i bonobo, cioè i scimpanzè un po' più piccoli, si sono separati ad un certo punto dagli altri, dallo scimpanzè maggiore, e hanno sviluppato delle caratteristiche di maggiore prosocialità, si dice. Quindi sono diventati meno aggressivi, utilizzano la sessualità come modulatore dell'aggressività e dei rapporti all'interno del gruppo, ci sono le femmine, le matriarche che controllano e che sanzionano chi non collabora con il gruppo. Insomma, noi abbiamo preso, sostiene Wrangham, parecchio dai bonobo, perché sia noi che loro abbiamo la sindrome da domesticazione, ne abbiamo parlato proprio nel video editoriale della settimana scorsa. Abbiamo avuto una autoselezione a favore della socialità, della docilità, della collaborazione, della cooperazione nel gruppo. Ma Wrangham fa giustamente anche notare che però nella storia umana e ancora oggi è presente una forte dose, una forte componente di violenza e di antisocialità e di aggressività e di egoismo individuale, che lui rimanda proprio all'altra nostra radice evolutiva, che è quella degli scimpanzè, che invece hanno un comportamento sociale dove c'è una maggiore componente di aggressività, sono organizzati in gruppi, ci sono molte conflittualità tra i gruppi, ma anche all'interno dei gruppi le relazioni sociali hanno delle dinamiche molto complesse. E sostiene che noi viviamo questa ambivalenza, questa ambiguità. Abbiamo quindi una forma di aggressività istintiva che ci è stata modulata un po' dalla selezione naturale alla bonobo e poi abbiamo una aggressività, una violenza, dice Wrangham, più fredda invece, più intenzionale e pianificata, che è più tipica nostra, e quella, come viene tenuta sotto controllo, dice Wrangham, soltanto con le punizioni, con la sanzione sociale. E a questo punto nel libro c'è una tesi molto controversa, molto provocatoria, perché Wrangham calca un po' la mano e dice che in particolare nella storia umana, nell'evoluzione umana, la sanzione che ha fatto la differenza è proprio l'uccisione del deviante, dell'individuo antisociale, del maschio troppo aggressivo. Una coalizione degli altri maschi lo colpisce e lo elimina, lo rende quantomeno innocuo e inefficace. È stata chiamata l'ipotesi dell'esecuzione, l'esecuzione come fattore evolutivo. Perché la tesi ha suscitato molte discussioni? Ovviamente perché Wrangham non ha la minima idea di voler giustificare la pena capitale in chiave biologica o evolutiva, lo dice espressamente nel libro. E poi l'altro tema interessante che Wrangham ha utilizzato anche nella discussione successiva all'uscita del libro è che in fondo questa sua teoria del paradosso della bontà, ovvero noi tendiamo a essere buoni con chi riconosciamo come appartenenti al nostro stesso gruppo perché cooperano con noi, ma tendiamo ad essere invece aggressivi con chi non fa parte del nostro gruppo sociale. Quindi c'è questa profonda ambivalenza nella nostra storia evolutiva. Dice Wrangham questo significa che la natura non ci fa essere né buoni né o cattivi di per sé, ci fa essere ambigui, ci fa essere ambivalenti e allora si apre, aggiungo io, uno spazio per la libertà individuale, per la responsabilità individuale, perché se noi abbiamo un retaggio evolutivo così ambivalente vuol dire che poi il fatto di comportarsi bene o male rispetto agli altri e alla società è una scelta che dipende anche da molti altri fattori culturali, ambientali, individuali e così via. E quindi si capisce anche come l'evoluzione biologica e quella culturale sono strettamente intrecciate nella storia umana. Questo ci rende unici a modo nostro nel grande albero della vita. Quindi per tornare alla dicotomia di partenza, secondo Wrangham non ha ragione né Hobbes né Rousseau o forse hanno ragione tutte e due e il fatto che abbiano ragione tutte e due ci rende una specie particolarmente ambivalente.